Cristiano Ronaldo se in campo ama mostrare la sua grinta, quando è a casa ama prendersi cura dei suoi figli, e della sua compagna Georgina Rodriguez Tuttavia, la notizia bomba di cui volevamo parlarvi, è arrivata pochissime ore fa Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Correio da Mana, CR7 avrebbe chiesto alla sua compagna di sposarlo Ronaldo avrebbe chiesto la mano a Georgina a Londra, località i cui due hanno festeggiato il compleanno della loro piccola Alana Martina Cristiano Ronaldo chiede la mano di Georgina Rodriguez.Come vi abbiamo riportato poc'anzi, il campione portoghese nelle ultime ore avrebbe chiesto alla sua Georgina di sposarlo La conferma riguardo la dichiarazione d'amore è arrivata da alcune foto Instagram, dove si vede un anello di platino e diamanti marchiato Cartier sulla mano di Georgina Per l'attaccante bianconero e la giovane modella che stanno insieme dal 2016 sembra essere giunto finalmente il momento del gran passo Al momento i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia del loro imminente matrimonio, anche se le immagini sembrano confermare il tutto Cristiano Ronaldo torna sul campo per allenarsi.Dopo il viaggio a Londra, Cristiano Ronaldo e la sua Georgina sono tornati a Torino Il campione della Juve non ha perso tempo ed è tornato subito ad allenarsi con la casacca bianconera in vista dei prossimi impegni stagionali Anche questa volta CR7 ha scelto di restare in Italia, e di non partire con la nazionale portoghese Che peraltro tra pochi giorni tornerà ad affrontare proprio l'Italia